Grazie Presidente, grazie consiglieri. Mi premeva, avendo avuto anche il confronto con alcuni consiglieri, specificare alcuni temi riguardo a questa variazione, in particolare sulla natura dell'intervento, ovvero sulle risorse che sono state rese disponibili. Ricordo che il programma previsto dal Governo sulla legge di stabilità 2016 prevedeva un contributo straordinario di 500 milioni di euro. Questo contributo è un contributo che è stato trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Quindi sostanzialmente sono somme che sono state erogate da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In quella sede si è pensato e si è immaginato di costruire un percorso di riqualificazione che desse priorità agli ambiti territoriali estesi. Quindi non si è pensato di intervenire specificamente su singole città, bensì di ragionare in termini di rigenerazione di intere aree urbane degradate. Quindi su questo la nostra amministrazione si è dovuta cimentare in dei bandi perché chiaramente le risorse, essendo molto limitate, prevedevano in effetti, soltanto per la Regione Lazio, un massimo di 40 milioni di euro. Quindi ricordiamoci che quando si parla di questi sembrano pochi gli interventi che sono stati fatti, ma in realtà anche le risorse che erano state messe a disposizione erano molto limitate, perché parliamo di 500 milioni per tutto il territorio nazionale. Quindi per quanto riguarda il territorio regionale era previsto un importo di 40 milioni di euro, questo riguardava tutte le città metropolitane, in questo caso Roma come città metropolitana, e 18 milioni erano previsti per i comuni capologo di provincia. Quindi non siamo riusciti ad accedere proprio con questi bandi all'erogazione dei 40 milioni di euro, siamo riusciti ad accedere soltanto alla quota di 18 milioni di euro come capoluoghi. Quindi su questo ci siamo ovviamente dovuti adeguare. Per quello gli interventi sono stati anche selezionati attentamente, perché si è cercato di andare a intervenire su quelle aree dove in effetti già c'erano, come avevo già spiegato prima, delle progettazioni in corso. Queste progettazioni in particolare riguardano l'area del Corviale. Perché l'area del Corviale? Perché sappiamo bene che non solo ci sono delle tematiche legate all'occupazione di alcuni piani di questo enorme complesso di alloggi. Perché? Perché queste occupazioni hanno riguardato dei piani che erano dei piani non utilizzati per finalità residenziali, bensì per finalità commerciali. Quindi la progettualità che si è cercato di mettere in piedi con il contributo dell'Ater è stato quello di individuare proprio in questo immobile ulteriori alloggi, quindi frazionare questi locali e cambiare la destinazione proprio per queste finalità. L'intervento che si sta facendo sul Corviale riguarda da un lato la riqualificazione degli immobili, ma dall'altro anche la riqualificazione delle aree limitrofe. Quindi è necessario trovare ulteriori risorse che andassero a mettere in sicurezza non soltanto un intervento di natura alloggiativa, ma che consentisse anche alle famiglie di potersi misurare all'interno di un territorio con infrastrutture adeguate. Parliamo quindi per esempio del plesso scolastico che necessariamente di via Mazzacurati che necessitava un intervento importante, parliamo di oltre 1.800.000 euro, quindi è un intervento importante. E dall'altra anche quella di cominciare a rimettere in sicurezza alcune aree specifiche stradali, alcune aree legate alla viabilità. Lo stesso principio è stato utilizzato per il discorso del decimo municipio, cioè si è voluto scegliere come aree di intervento delle aree profondamente degradate dal punto di vista del decoro urbano, della vivibilità, ma anche della rischiosità e della pericolosità della criminalità organizzata. Perché all'interno di questi sapete bene che per esempio nel caso del Corviale c'è una sorta di parastato che si realizza in quell'area. E quindi la presenza dell'amministrazione e di risorse pubbliche in quelle aree diventa un ulteriore volano per cercare di arginare questi fenomeni di illegalità. Perché ricordiamoci sempre che nel momento in cui si combatte il degrado e si opera nel decoro, cercando di riportare le aree in un contesto vivibile e accettabile da parte della popolazione residente, produce un beneficio sia in termini di orgoglio della collettività e dei cittadini che vi abitano all'interno di quegli immobili, ma nello stesso momento anche chi sta combattendo, perché vi assicuro che ci sono tantissimi cittadini che stanno combattendo, e l'assessore Stefano Lucidi del municipio me lo ricorda costantemente, lì c'è una forza civica che sta rischiando anche sulla pelle di portare avanti determinate iniziative. A maggior ragione abbiamo ritenuto che questa amministrazione doveva dare un segno forte, è un segno tangibile all'interno di aree del genere così degradate. Credo che sia inutile fare la stessa premessa per il municipio 10. Sappiamo bene che in quell'area sono nate e hanno trovato terreno fertile organizzazioni criminali, organizzazioni criminali che hanno contaminato tutta la capitale. Il fenomeno che è stato sempre chiamato dai giornali mafia capitale trae le origini proprio da quelle aree dove personaggi assolutamente ignobili si sono permessi di appropriarsi di aree, di denari pubblici e hanno ritenuto che i loro diritti potevano prevaricare i diritti di altri. E allora ci siamo chiesti in quelle aree che cosa era necessario fare. Abbiamo detto che in quelle aree è necessario intervenire, intervenire sostanzialmente non soltanto con una presenza importante che è quella del prefetto Vulpiani, sicuramente una persona di equilibrio, di grande competenza e con una professionalità indiscussa nell'ambito della sicurezza e di ripristinarietà nelle aree locali. Dall'altra parte era necessario invece consentire anche alla polizia locale e alle forze dell'ordine di avere dei luoghi dove poter espletare correttamente e dignitosamente il loro intervento sul territorio, il loro intervento di sicurezza. E quindi abbiamo pensato che un immobile di proprietà dell'amministrazione regionale, che non era più utilizzato, era oltretutto anche abbandonato, poteva diventare un simbolo di rinascita proprio in un municipio che aveva subito tanti saccheggi. Quindi su questo si è lavorato profondamente, c'è stato un coordinamento per cui ringrazio tantissimo la delegata alla sindaca Giuliana De Pillo, ma anche il presidente del gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle, Paolo Ferrara, perché il loro impegno costante, personale all'interno di quel territorio ha consentito che tutte queste risorse finissero esattamente in quei contesti. E su questo c'è stata anche un'iniziativa civica, perché anche i cittadini della zona di Ostia, in particolare che conoscevano molto bene l'importanza di quel plesso scolastico, hanno combattuto affinché rimanesse nella disponibilità di tutti i cittadini. Perché questo è anche un altro dei segnali che bisogna dare. Bisogna cercare di far capire che ogni singola struttura che viene realizzata per servizi verso i cittadini, servizi pubblici, devono restare tali, non possono essere utilizzati per altre speculazioni. Questo è stato l'altro messaggio che abbiamo lanciato proprio con questa operazione sull'ex Gil. E mi preme anche ringraziare il prefetto Vulpiani, perché proprio anche la sua attività, soprattutto di stimolo e di pungolo nei confronti di tutte le istituzioni che si muovono all'interno e che comunque hanno competenza per la realizzazione di questo intervento, si sono chiaramente allineate e hanno seguito questa volontà. Io credo che nel momento in cui tutte le forze, da quelle istituzionali simboliche fino a quelle politiche che hanno sostenuto queste iniziative, alla forza civica, si riesce a raggiungere obiettivi assolutamente insperati, perché quell'area poteva essere oggetto di qualsiasi occupazione, di qualsiasi forma di degrado. Invece questo intervento va proprio in questa direzione. Credo che il segnale che si sta dando, anche con l'intervento condiviso con l'esercito, quindi con le forze armate, che attraverso la loro competenza, i loro ingegneri e i loro tecnici stanno contribuendo a costruire un percorso di risanamento concreto, perché anche quell'opera viene realizzata dal genio militare. Quindi per noi è molto importante anche questo contributo che viene dato, perché si riesce anche a sradicare fenomeni di collusione che solitamente risiedono all'interno dei territori in cui ditte locali vivono o vivacchiavano sulla base di connivenze che si erano create nel tempo e avevano impedito la costruzione invece di un tessuto imprenditoriale di maestranze, di competenze sane. Quindi anche questi interventi che si stanno facendo grazie al municipio e ai nostri delegati, in particolare la delegata Giuliana Di Pillo sul territorio, stiamo riuscendo a dare delle risposte concrete a dei fenomeni che si sono perpetrati nel tempo e al quale questa amministrazione sta cercando finalmente di porre un freno, chiaramente con l'aiuto delle istituzioni, del prefetto, del ministero degli interni e di tutte le forze dell'ordine. Quindi per noi questa variazione su questi dati, su questi interventi, rappresenta molto di più delle cifre che sono scritte all'interno di questo documento. Ricordo che anche gli impegni economici che vengono presi da questa amministrazione molto spesso pesano sui saldi finanziari, sui saldi di finanza pubblica. Quello che cerchiamo di spiegare tutte le volte a chi viene e contesta eventuali riserve per chi conosce bene come funziona il sistema delle riserve da parte di molti operatori che realizzano opere per conto dell'amministrazione cercando di lucrare su cavilli contrattuali e che quindi creano contenziosi infiniti, a volte di milioni di euro, ricordiamo sempre che ogni volta che si deve misurare e accantonare risorse per eventuali contenziosi, in realtà stiamo privando l'amministrazione di risorse che possono andare a disposizione dei cittadini. Per questo anche questa operazione che stiamo facendo, proprio sia la Commissione Bilancio, che ringrazio, perché la Commissione Bilancio attraverso un'opera costante che sta facendo con l'aiuto di tutte le altre commissioni di monitoraggio sulle varie opere, sulle varie iniziative, i vari interventi che si devono portare avanti nell'anno, quindi il famoso impegnato sullo stanziato, questo parametro lo stiamo finalmente monitorando a livello politico perché nel momento in cui le risorse sono poche, sono scarse, i vincoli finanziari sono limitati, serve una scelta politica, ma serve coraggio perché bisogna decidere esattamente dove andare a destinare quelle risorse scarse che l'amministrazione ha ma che vuole utilizzare in maniera produttiva. La marginalità di questi investimenti, di queste risorse che devono essere messe a bilancio, devono produrre benefici reali ai territori, quindi l'impegno di questa amministrazione è anche in questo. A volte ci è stato detto, io quando partecipo alle commissioni competenti, spesso le opposizioni contestano il fatto di provvedere con variazione di bilancio ex articolo 42. Noi questi interventi li facciamo sicuramente in urgenza, ma li facciamo perché non vogliamo perdere delle occasioni, non vogliamo privare i cittadini di risorse che possono nel momento, sul momento, contribuire ad aumentare il livello di sicurezza, di protezione e di vivibilità che ci si aspetta all'interno di determinate aree. Quindi, ripeto, se da una parte le variazioni fatte e decise dalla Giunta possono sembrare delle iniziative unilaterali, in realtà sono delle iniziative di responsabilità. Lo dimostra questa variazione che stiamo andando a discutere, ma lo dimostrano anche le altre variazioni, perché è, diciamo, all'onore della cronaca, immagino, anche l'ultima variazione che è stata approvata la scorsa settimana dalla Giunta, in cui si prosegue in questa direzione. Cioè si cerca di consentire a tutte le realtà territoriali di disporre di risorse utili per la vita di tutti i cittadini. In questo momento mi riferisco in particolare, per esempio, agli AIC, quindi al contributo che viene dato soprattutto sulla scuola e sulla disabilità. Sono temi che non erano mai stati affrontati. Finalmente, per la prima volta, abbiamo un modello di valutazione delle contribuzioni sugli AIC. Siamo riusciti a riportare il livello di contribuzione a un livello medio nazionale, cosa che non si era mai fatta prima. Anzi, c'erano delle disparità tra i territori. Ecco, quindi oggi vanno viste le variazioni anche in quest'ottica. Si cerca di creare una omogeneità di trattamento e non una disomogeneità. Molti municipi ricevono benefici e altri meno. Ecco, questa è un'attività che invece impedisce che certe cattive prassi possano andare avanti. In precedenza avveniva questo. Ecco, quindi, ripeto, il percorso e penso che anche i revisori con il loro parere che è allegato alla variazione di bilancio mettono in luce è proprio questa. Cioè, il fatto che da una parte vi è un intervento Assessore dovrebbe avviarsi a concludere? Sì, certamente concludo. Appunto, volevo soltanto ricordare che anche questa manovra trova un parere favorevole da parte dei revisori che raccomandano una pronta diciamo verifica degli impegni che si prendono attraverso questa variazione affinché le opere che sono indicate all'interno vedano una immediata esecuzione. Grazie.